Avete voi una chiara idea della magia del mago? Magia è sapienza assoluta. Vale a dire che la sintesi di tutto ciò che è stato è e sarà. È una parola che racchiude tutti gli attributi dell'onnipotenza divina. Se voi al nome di Dio date il valore della suprema intelligenza che crea, regola e conserva l'universo. Il mago è il possessore, il depositario vivente ed utente della scienza di Dio. Quindi la magia non è ciurmeria, il mago non è un mistificatore. Tre magi andarono a visitare Cristo nella sua culla, non erano tre saltimbanchi ma tre grandi iniziati alla scienza divina. Marius de Respe scrive così La magia è la scienza delle forze occulte della natura, la vera fisica, la vera chimica dell'avvenire. Così il rabbino Federico Chiel che sotto San Luigi aveva inventata la lampada ad arco e i pensatori elettrostatici era un mago distinto. Quegli che realizzasse oggi il telefoto o anche il telefono senza fili sarebbe parimenti un mago. I talismani e gli amuleti riposano sugli stessi principi della metalloterapia di Durk e negli antichi libri dei segreti magici si trova la composizione speciale delle iniezioni rigeneratrici di Brosecard. Questa scienza è tanto potente che fa perdere a colui che si è impadronito del segreto divino la volontà di parlarne. Anzi coloro che sono arrivati hanno fatto il possibile di non scrivere la verità che sotto forma quasi inintellegibile dagli stessi che ne avevano l'intuizione. Un segreto terribile come vedete ma che i lettori serenamente studiosi possono intravedere e raggiungere a grado a grado che compiranno le loro prove e le loro osservazioni. Già che si pensi che gli antichi sacerdoti questa scienza la impartivano nel tempio a tutti quelli che si rendevano degni di apprenderla e praticarla dopo prove terribili e lunghe e si dava a gradi con riti e cerimonie che la nostra chiesa cattolica ha conservato negli ordini sacri e la massoneria nella graduazione delle sue dignità. Si prega l'amico lettore di non interrogare su questo punto né un prete né un massone. Il prete cadrebbe dal settimo cielo e il massone dal quinto piano della torre di Babele poiché nei seminari arcivescovili non si preparano i sacerdoti sapienti ma i mestieranti e nelle logge dei liberi muratori politicanti e pappanti si ignora perfino che il triangolo di cui fanno pompa è fratello all'altro che nelle chiese si dipinge sul capo del padre eterno. Il prete dovrebbe essere un iniziato cioè un partecipante al segreto di Dio come un massone di ultimo grado dovrebbe tenere nella saccoccia dei pantaloni tutta la sapienza dell'universo. Invece all'epoca del cinematografo e della linfa della peste. Il prete ed il massone sono estranei alla loro casa. L'uno consagra come un impiegato del Cristo e l'altro chiede un impiego ai fratelli per edificare il proprio tempietto. Gli antichi chiamavano costoro profani da ro innanzi e fanum tempio. Sarebbero cioè della gente che gracchia fuori le porte della casa di Dio. Tra i figli di Gesù istituiti dal pio e bollente Sant'Ignazio si trova qualche militante ma attenti alla marca di fabbrica. Pitagora prima di insegnare obbligava i suoi discepoli a tacere per sei mesi. Prova più terribile di tutte perché gli uomini di coraggio passerebbero attraverso i roghi dell'inquisizione di Spagna e non saprebbero tacere per pochi giorni un segreto di Pulcinella. Da questo si può arguire che coloro che insegnavano questa scienza terribile, o ne sapevano l'importanza, richiedevano qualità che il comune non ha. Immaginate per un istante che i vostri bambini, in ginocchio e con ogni grazia, vi chiedessero una altella carica delle sue brave pallottole, scambiandola con un giocattolo divertente. Consegnereste voi, nelle loro mani puerili, un gingillo tanto pericoloso senza venir meno a vostri doveri di padre verso i figli e di uomo verso l'umanità? Voi consegnerete un'arma nelle mani dei figli uomini? Il giorno in cui sarete sicuri che essi ne useranno per salvare la loro vita, non per offendere né per offendersi. Il maestro compiva l'educazione del profano, conduceva pian piano il neofita al sacerdozio. Il sommo sacerdote era l'adepto, cioè il completo arrivato, il mago. Cristo ha compendiato tutta la preparazione magica nell'ama il prossimo tuo come te stesso e nel non fare all'altro ciò che non vuoi si facesse a te. Chi integralmente pratica questi due precetti e sa tacere è pronto per cominciare. Una perfetta rettitudine di cuore, un chiaro sentimento del bene, una completa avversione a produrre il male, un grande amore per il suo simile, una coscienza scevra da ogni macchia, nessun desiderio che non sia il ben altrui, nessuna paura del male che possa colpire operando il bene. Ecco come il mago contiene il santo ed è degno di quella grande astrazione del bene che è Dio. Siete pronti e preparati così? Mettete sulla vostra testa la corona della sapienza e il segreto di Dio si rivela a voi. Voi siete diventati adulti da poter tenere nelle mani l'arma che non adoperete mai per il male e che mai vi colpirà. Scrive Eliphas Levi o meglio Elipha Levi. Esiste un segreto formidabile, la rivelazione del quale ha già distrutto un mondo come l'attestano le tradizioni religiose dell'Egitto, riassunte simbolicamente da Mosè al principio della Genesi. Questo segreto costituisce la scienza fatale del bene e del male e il suo risultato, quando lo si divulghi, è la morte. Mosè lo rappresenta sotto la figura di un albero che è al centro del paradiso terrestre e che è vicino e che è attaccato per le sue radici all'albero della vita, che è guardato dalla spada fiammeggiante e dalle quattro forme della sfinge biblica, il cherubino di Ezechiele, di cui mi devo arrestare perché temo già di averne detto troppo. Sì, esiste un dogma unico universale, imperituro, forte come la ragione suprema, semplice, come tutto ciò che è grande, intelligibile, come tutto ciò che è universalmente e assolutamente vero e questo dogma è stato il padre di tutti gli altri. Sì, esiste una scienza che conferisce all'uomo delle prerogative in apparenza sovrumane. Ora, se questo terribile segreto esiste, non è ad un santo che deve essere affidato?